6 giugno 2024, ore 13, stiamo posizionando l'ultimo scalino. È il primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, a spiegare il termine dei lavori che hanno portato ad eliminare gli scalini in pietra arenaria nel Palazzo Aretino, in Piazza Grande. La forza, la coerenza e la storicità, queste le caratteristiche racchiuse nel travertino bianco e questo è il tipo di marmo che è stato scelto per i nuovi gradoni della scalinata che da Piazza Grande sale fino al Palazzo di Fraternità. Lo spazio è preparato, sono state depositate da me delle monete correnti, secondo l'antica tradizione di Fraternità in ogni opera andavano poste delle monete correnti. così ho fatto e adesso procediamo al posizionamento dell'ultimo scalino. La scala è terminata, viva Dio e grazie per averci aiutato in questa opera che rimarrà qua per secoli. La pietra arenaria spiega sempre i rossi che finora costituiva la scala, era fortemente deteriorata e anche pericolosa, così nella predisposizione del progetto che vede con partecipare anche il comune di Arezzo per la metà del costo, la soprintendenza ha espressamente comunicato che appunto il materiale non era recuperabile e tantomeno restaurabile. Grazie. 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 Grazie.